Guardiamo un po' cosa è arrivato. 1 e 1,2. Questi sono i due pensierini di Lionel Messi per me, che rappresentano il gol numero 514 e il 515 della sua carriera col Barcellona. Questi due gol me li ricordo ancora perché mi hanno fatto soffrire molto e hanno permesso al Barcellona di batterci 3 a 0 e quindi di passare una brutta serata. Però non possono non riconoscere la grandezza di Lionel e del Barcellona, soprattutto in quella sera del Camp Nou. L'unica cosa, l'unico auspicio che mi faccio è che la mia collezione termine qua. Ok, mi raccomando, conto su di te. Due bastano e avanzano.